Benvenuti alla seconda giornata dell'Istituto Espresso Italiano Aost. Anche oggi ci saranno con noi degli esperti, degli specialisti del mondo dell'Espresso Italiano. Ci saranno gli Espresso Italiano Dream Team, baristi professionisti da tutto il mondo che saranno qui a servire gli stili dell'Espresso Italiano. E nel pomeriggio, dalle ore 2, le seconde semifinali di Espresso Italiano Champion. Una giornata ricchissima anche oggi e vi aspetteremo poi oggi ma anche domani. Grazie.